attribuito a cubashek dal pala badiani occhio a del video occhio a soldi via attenzione calcia attenzione calcia è giocata attenzione a spazio buttima buttima traversa e poi sempre ferrara dentro il video sempre ferrara dentro sterza di nuovo a spazio il video calcia occhio a questo pallone dentro occhio a questo pallone ma sterza buttima lascia lì per il video grandissimo lascia lì per il video grata setta poi finisce giù arriva col del video finisce giù mantula ha provato a cercare masaro e poi riparte punti ma è il video prima è il video campo qui c'è l'ottimo invece il ticco il video che provano di due secondi c'era doppio da parlo ultima passa su palardina in area di rigore la mente spazio per la puntata spazio per la palla verso il video deviazione autogol palla verso il video deviazione ciao 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 ciao